Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. La linea di Elislein sì, mi sembra abbastanza chiara, peraltro ritengo strumentali alcune delle polemiche. Cioè che Elislein decida di andare a una manifestazione contro il precariato mi sembra assolutamente normale. Qualche settimana fa nella mia città che è Catania, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, non una cabarettista, una presidente del Consiglio, ha detto che le tasse sono un pizzo di Stato. È una frase gravissima sulla quale si è sorvolato. Mentre si è fatto un grande storia, un classico della stampa italiana, che credo che posso fare una piccola inciso, il problema del PD non è tanto al suo interno, anzi è un partito pluralista, poi ci sono le correnti, magari a volte litigano, esagerano, però bene che esista un pluralismo. Il problema del PD secondo me è il suo rapporto con la stampa italiana che a volte è un po' troppo stretto, perché alcuni sono amici di... Però scusi, finisco. Si è fatto un casino per la frase di Grillo, che invece era molto chiara, perché Grillo dice, ironicamente, mettete il passamontagna e andate a riparare le buche, fatelo col passamontagna perché un pensionato che aveva riparato, paraccio, una buca nel suo comune è stato multato di 800 euro dopo che ha fatto un servizio alla collettività. Mentre sul pizzo di Stato tutti hanno fatto pippa o sono stati zitti. Però ci tengo a dire che invece la mia distanza personale dalle parole di Moniovadia è grande, credo anche di una grande parte del sentimento proprio degli elettori di centrosinistra, perché la guerra è stata provocata da Putin, non da un fantasma. La sollege dopo una cosa. Lei dice, il problema del Partito Democratico forse è nel suo rapporto con la stampa. Io lo penso, ma non solo del Partito Democratico. Ma non è che in realtà il problema del Partito Democratico è nel suo rapporto con il Movimento 5 Stelle, perché dal 2019 si pone il problema della subalternità. Ai tempi di Veltroni c'era la vocazione maggioritaria. Dal 2019 ad oggi il problema è che siamo i figli di un dio minore. All'inizio non c'era il Movimento 5 Stelle, poi è arrivato il Movimento 5 Stelle. Cosa ha insegnato alla politica italiana? Che delle volte non si deve andare dietro, stavo per dire da presso, come si dice in Sicilia, a un quotidiano che vende 500 copie, ma che tutti noi giornalisti leggiamo e i cui redattori poi diventano presidente dell'Istituto di Cultura a Parigi, hanno dei vantaggi, diciamo così, economici e sociali. Quel quotidiano fa opinione in questa bolla ristretta che siamo giornalisti e chi fa politica, ma alla gente che poi vota non gliene frega niente di queste cose. E questo l'ha insegnato i 5 Stelle che hanno fatto una campagna elettorale nel 2018 con 700 mila euro, cioè meno di un decimo di quello che ha speso la Bonino. La Bonino ha preso due deputati, due parlamentari, 5 Stelle e 340. Quindi non c'è bisogno, basta essere chiari. Su questo io credo che la linea di elettorale sia una strada lunga, un po' faticosa, ma potrebbe avere un buon risultato finale, perché mi sembra una persona chiara. Per chiudere, se non ci si unisce tutto l'opposizione, diciamo tutto il centro-sinistra, chiamalo come vuoi, l'area opposta alla destra, la destra oltre al governo nazionale vincerà tutte le regioni e tutti i comuni. Quindi mantenendo le proprie identità, bisogna provare punti di unità, se no c'è il rischio che questo paese diventa un paese a monocolore di destra e io non sarei tanto felice. Forse anche tutti i consigli provinciali, se è vero che il cattiere... Quindi facciamo attenzione a queste ripicche personali, azzeriamo il campo, questo riguarda sinceramente anche me.